Siamo a margine della Legal Forum organizzato dalle fonti tv a Palazzo Mezzanotte per discutere del futuro della giustizia penale. Siamo in compagnia con il professor Francesco Mazzacuva al termine dei lavori, una conferenza insomma particolarmente appassionata e sentita anche proprio per la centralità e l'importanza della materia. Le chiedo innanzitutto che cosa si aspetta dalla figura del penalista del futuro? Senza dubbio il penalista del futuro, si diceva anche durante il convegno, deve confrontarsi con un diritto penale che diventa sempre più complesso, questo anche in ambito accademico. In alcuni paesi le nuove cattedre di diritto penale neanche sono più denominate cattedre di diritto penale, si parla di cattedre di giustizia riparativa per l'appunto, cattedre di diritto penale e intelligenza artificiale, insomma un diritto penale che si fa sempre più complesso, diversificato, lo dicevamo anche oggi, nei procedimenti, nelle forme di risposta al reato e quindi senza dubbio il penalista del futuro deve imparare a confrontarsi con queste significative mutazioni, con procedimenti penali che spesso si intersegano con procedimenti amministrativi per gli stessi fatti, responsabilità degli enti, i procedimenti di prevenzione, specialmente quelli patrimoniali, quindi realtà nuove, tanto che mi viene il dubbio se veramente si possa parlare di penalista del futuro o se si assisterà in futuro a tante figure di penalisti a seconda evidentemente della specializzazione. Ecco, la riforma Cartabia possiamo dire appunto è il punto di partenza per una revisione anche proprio del processo penale, un punto di partenza che dove ci porterà nel futuro? Beh, è un punto di partenza, si diceva, una riforma coraggiosa che tenta di intervenire su alcuni aspetti che da tanto tempo venivano trascurati e nella consapevolezza che la strada è ancora lunga, lo si vede anche notando alcune differenze tra il frutto della riforma e quelli che erano stati alcuni lavori pretratatori, penso al documento della Commissione Lattanzi, quindi con questa consapevolezza che c'è molto da fare bisogna anche però guardare penso con favore a questa riforma che tenta effettivamente di intervenire su alcuni aspetti che da tempo richiedevano un intervento anche coraggioso come si diceva durante i lavori di oggi. Ecco, infine in sintesi più gli aspetti positivi o negativi le cose da rivedere dalla riforma Cartabia? Beh, come diceva è difficile ora fare un bilancio, la riforma non è ancora in vigore e bisognerà apprezzarla dati alla mano dopo una prima esperienza applicativa, però direi che sul piano sostanziale ci sono molte luci, più luci che ombre senz'altro, la critica che viene fatta talvolta è che si poteva fare di più ma ciò non toglie che ciò che si sia fatto va nella giusta direzione e in effetti penso che tutte le misure adottate sul piano del diritto penale sostanziale siano state accolte sostanzialmente in maniera favorevole dalla parte della comunità dei penalisti. Maggiori discussioni in effetti ci sono sugli interventi sul processo penale, non a caso quelli oggetti delle norme transitorie che si vorrebbero introdurre in attesa di conversione del decreto e su quelle più difficile effettivamente ora fare un bilancio, gli servirà veramente la prova della prassi, senza dubbio però anche in questo caso va apprezzato il tentativo di incidere su alcuni aspetti di inefficienza del processo che erano ben noti, che sono ben noti. Grazie professore. Grazie a lei. Grazie a tutti.